Ciao a tutti! Allora, spero che mi vediate, la luce non è granché, però purtroppo già è buio fuori, ha nevicato tutto ieri, c'è la neve non tanto alta, ma c'è la neve, quindi la luce è molto bassa. Allora, volevo farlo prima questo video, ma comunque avrei dovuto accendere la luce artificiale, quindi al solito faccio questo video nel momento in cui sono più rilassata, nel frattempo scusate, ma la mia felpa di pile attira peli dei cani, che animali in casa sa bene che convive con i peli degli animali, non c'è niente da fare. Allora, questo video è un video di review di alcuni prodotti per gli occhi, nello specifico, quindi parleremo di correttore, di correttori e mascara, promossi e bocciati da me, provati, riprovati, varie volte e promossi o bocciati. Allora, partiamo dai promossi, i promossi sono pochi per quanto riguarda i correttori, un po' di più per quanto riguarda i mascara, perché i correttori, voi sapete bene, c'è una guerra per quanto mi riguarda per i correttori, perché io ne ho provati diversi e su di me non hanno grande effetto, nel senso che le occhie continuano a vedersi e quindi sono costretta a provarne diversi. Peraltro, scusate le mani, ma venerdì spero, se riesco, di rifare di nuovo la mia forma classica. Allora, partiamo dai correttori. Allora, fondamentalmente io ne promuovo, se trovo il secondo, che ho qui il mio, il cassettino con i prodotti della mia cassettiera classica che io tengo in bagno. Allora, fondamentalmente i correttori da me promossi sono, promossi proprio a pienissimi voti, sono due. Due di fasce completamente diverse, quindi una fascia medio alta e una fascia bassa, economica. Entrambi sono degli ottimi prodotti. Allora, partiamo con quello che mi sentite reclamizzare spessissimo, che è il low kit di Kat Von D. Questo qua ha un prezzo di 26 euro, quindi ha un prezzo abbastanza elevato. E l'inci, lasciamo perdere, perché io ormai con l'inci, con i correttori, sono assolutamente rassegnata ad utilizzare prodotti siliconici, perché altrimenti le occhiaie non si coprono, perché come correttori bio ne ho utilizzati diversi, ma non ho avuto nessun risultato. Continuavano a vedersi, ora ve ne farò vedere tre o quattro di correttori bio. Uno l'ho buttato addirittura perché puzzava maledettamente, tra l'altro l'ho buttato praticamente sano, perché quello della Color Caramel è andato in malura e l'ho buttato praticamente sano, perché non copriva niente, non mi copriva nemmeno le discromie. Cioè volevo utilizzarlo per coprire un po' le discromie, ma non le copriva. Quindi questo è assolutamente promosso, questo è un mio mai più senza. Io lo uso centellinandolo quando devo fare trucchi un po' particolari, per eventi un po' particolari. Per esempio lo utilizzerò a Capodanno, l'ho utilizzato ai compleanni, perché per tutti i giorni preferisco utilizzare il camouflage, quello nuovo di Essence. Questo qua come coprenza è fantastico, veramente fantastico. Ora io vi faccio la prova con una macchia che ho io qua sulla mano, non so se riuscite a vederla. Così vi faccio vedere la... Aspettate, aspettate che faccio una cosa. Ho dimenticato di prendere le salviette così mi puliscono se mi sporco. Allora vi faccio vedere la coprenza su questa macchia che voi vedete qui piccolina. È una macchia di vecchiaia, fondamentalmente vecchiaia, senza esagerare. Una macchia d'età, ecco, non è un neo, è proprio una macchia, ce l'ho da un paio d'anni. Allora, vi faccio vedere la coprenza dello kit, quindi la macchia è qui, non so se la vedete, penso che la vedete. La scusate, la luce fa proprio schifo. Allora, il lo kit è molto chiaro, però come vedete già la macchia non c'è più. Tampone un po', e come vedete la macchia è perfettamente sparita. La coprenza di questo prodotto è straordinaria. È ovviamente utilizzato non solo per coprire le occhiaie, ma per coprire le macchie, le discromie. Io l'ho utilizzato per i brufoli, vedete la macchia adesso è ritornata. E vi faccio vedere il camouflage. Questo è un ottimo prodotto, costa poco più di 2 euro, 2 euro e qualcosa. Una sciocchezza. Allora, vedete, io lo tampono, come tamponerei, ecco. Qui la macchia si vede un po' di più, però non ha la coprenza del... Però è sovrapponibile. Però questo le occhiaie le copre molto bene. Ovviamente la macchia è molto più scura delle occhiaie, è chiaro. Me lo potete usare, tra l'altro, in quasi tutti i getteradi with me. Per cui... Allora, questo come coprenza non lo batte nessuno. Però ovviamente, avendo un prezzo di 26 euro, evito di utilizzarlo ogni giorno. Anche perché, utilizzandolo precedentemente ogni giorno, mi è durato solo 6 mesi. Vorrei evitare di spendere 26 euro ogni 6 mesi. Quindi lo utilizzo per le occasioni. Questo qua, invece, lo uso ogni giorno. Quando mi trucco per uscire, ovviamente. Non mi trucco se devo stare in casa. Ecco, andiamoci così. Poi, io cosa ho utilizzato, invece? Adesso vado sui prodotti bocciati. Per me, assolutamente bocciati. Perché non coprono. Non coprono minimamente. Allora, questo qua... LA Girl è promosso, però l'inci è terrificante. Contiene parabeni e di conseguenza l'ho usato, ma l'ho quasi finito. Non lo ricomprerò. Perché ha una buona coprenza, però... Ed è il Pro Conceal della LA Girl. Questo ha una buona coprenza, però contiene parabeni. I parabeni sono cancerogeni, di conseguenza vorrei evitare. Allora, bocciato. Questo qua della Catrice, il camouflage cream. Questo è il bottino. Infatti, come vedete, è praticamente nuovo. Perché non copre una sega. Zero. Nulla. In nulla. Non copre niente. L'avevo provato sulla mano e mi sembrava buono come coprenza. Applicato sull'occhiaio. A parte che è in crema e si infina nelle pieghe e lasciamo perdere. Ma proprio non copre una mazza. Così come non copre una mazza, questo qua della Cien. Lo vedete chiuso perché quelli che avevo li ho finiti. Perché l'ho utilizzato come illuminante. In light. E il medium l'ho dato a mia sorella perché lei si ci trova invece bene. Lei ha le occhiaie evidentemente meno scure delle mie. Questo qua io lo uso come illuminante. Quindi lo metto nelle zone che devo illuminare. E come illuminante non mi dispiace. Ma come correttore no. Zero. Un altro correttore assolutamente bocciato è questo qua della Bionique. Come vedete è nuovo. Questo qua della Bionique è assolutamente bocciato. Non copre una mazza salata. Sempre. Questo qua in realtà non è un vero e proprio correttore. Questo sarebbe in teoria un fondotinta in crema. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Qua c'è la sua spugnettina. Vedete? Questo qua è il Get Picture Ready di Essence. Questo qua io come correttore. Scusate nel frattempo vi fa il riflesso lo specchio. Questo come vedete lo sto utilizzando. Lo utilizzo. Però come fondotinta non va assolutamente bene. Perché per la pelle, per chi come me ha la pelle secca, io ho la pelle mista veramente. Secca in alcuni punti, non grassa, ma tende a lucidarsi in altri punti. Questo qua, per chi ha la pelle secca in alcune zone, io come secco zona ho qui, qui e attorno al naso. Per me è letale, perché evidenzia tutte le pellicine. Quindi lo uso solo come correttore. E come correttore mi ci trovo molto bene. Poi, 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 poi. Questo qua è uno dei correttori Simil Bio. È la Deborah la linea 0%. Quella senza parabeni, senza paraffine, senza oli minerali e bla bla. Come correttore, come vedete, è sano, perché non copre una mazza. Quindi diciamo che io mi manterrò sul comprare quei due correttori lì, perché sono favolosi. Continuerò a comprare quelli là. Questo è uno di Bottega Verde. Questo l'ho utilizzato un po' di più perché copricchia. Non è il massimo, però non mi piace il colore. Cioè, il colore mi è stato consigliato perché, secondo lei, l'aranciato copriva le mie occhiaie. Ma non è vero, l'è evidenzia. Per me ci vuole un correttore medium beige. Chiaro, illuminante. Un altro bio che ho comprato, ma ho usato... Non mi piace nemmeno... Non mi piace minimamente. Non mi copre niente. Ed è quello della Zao. La Zao è una linea bio in vendita da limoni. Tra l'altro mi è costato una barca di soldi e non copre una mazza. Perché il problema è questo. Io non li... I tester non li provo sulle occhiaie. A parte perché quando esco sono truccata, quindi che cosa provo. Ma non li provo perché mi schifo. Li provo sulle mani. Sulle mani sembrano andare bene. Poi lo vado ad applicare lì. Ciao. Nel frattempo io sto... Ah, poi ho provato anche questi due correttori di Shaka. Questo qua e questo qua. Questo qua, tra l'altro, li dovrei anche buttare perché hanno fatto tipo tutto liquido qua. Questi qua sono quello senza parabeni. Questo almeno dermatologicamente testato. Senza parabeni. Questo in teoria doveva andare bene, ma non copre una mazza. E questo qua è quello antiimperfezioni. Quindi serve per coprire le macchie. L'ho provato, ma non copre nulla. Assolutamente. Scusate. Ehi! Allora, caramella! Sentono le persone che rientrano a casa. Di conseguenza fanno come pazzi. Allora, questo invece era uno della Cien. Che ho preso da Lidl. Come vedete è praticamente sano. Perché non solo non copre una mazza. Resta trasparente. Però purtroppo questi qua, questi correttori qua, non si possono provare da Lidl. Perché sono quelli... Scusate. Scusate, ho dovuto interrompere perché stanno abbaiando troppo forte. Hanno sentito gridare di fronte. Dicevo, questi qua non si possono provare perché essendo le edizioni limitate non hanno i tester. Quindi l'ho comprato un po' a scatola che usa. E ho comprato i due colori che c'erano. Sia lo 01 che lo 02. Allora, lo 02 l'ho utilizzato un po' di più perché è un po' più scuro e riesce a coprire. Lo 01 è proprio troppo chiaro. Quindi 0. Poi, 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 poi. Aspettate che arrivo, ne? Ce n'era un altro che adesso non trovo. Ah, è quello color caramel l'ho buttato direttamente. Questo della lavera, sempre bio, questo sembrava coprire un po' di più. Però, cioè, copre sul momento, ma non dura nulla. Purtroppo, essendo bio, siamo sempre là. Hanno una formulazione che è sicuramente buona come ingredienti, però non è performante. Quindi, come dopo un po', massimo un'ora, un'ora e mezza, me lo trovavo tutto nelle pieghe e avevo le occhiaie che si vedevano. Nonostante il fatto che tamponavo con la cipria. Quindi, come vedete, i correttori che ho provato sono diversi. Volevo provare quello della MAC, ma non me la sono sentita di spendere 30 euro per... Quindi, siccome avevo trovato questo qua della Kat Von D, che essendo un prezzo molto elevato, diciamo che questi due sono i miei mai più senza. Questi due. Uno fascia economica, uno fascia alta. E io continuo a usare questi due, perché mi trovo divinamente. Sono finalmente riuscita a trovare due correttori che mi entusiasmano. Per quanto riguarda i mascara, io ne ho provati veramente, veramente tanti. I miei preferiti, tuttora, che sono due dei miei mascara preferiti, sono il top. Per me sono il Wicon Fatal Glance, quello con le fibre coloranti per le ciglia, che poi di coloranti non hanno una mazza, perché personalmente a me non hanno colorato niente. È il Paradise Exotic di L'Oreal. Questo è il mio preferito, veramente il mio preferito. Vi faccio vedere gli scovolini. Allora, uno è così, un po' a... ecco. È un po' con il centro un po' che va a strangersi. E questo qua ha uno scovolino favoloso, uno scovolino così, ergonomico, tutto in silicone. Io adoro gli scovolini in silicone perché non si sporcano troppo, non trattengono troppo prodotto, riescono a separare bene le ciglia. Quindi questi due sono i miei preferiti. Ma ce ne sono altri mascara che io ritengo molto validi. Questo qua, di Essence, che è il Volume Stylist di Essence, quello con le fibre. E questo qua, che è il The Lash Princess, quello verde. Questi due sono anche molto validi. Così, così come è molto valido questo qua, il Doll Eye Effect di Bella Oggi. Con questo mi trovo molto bene. Infatti questo è quasi finito. L'ho comprato tipo una vita fa. Di Bella Oggi ho comprato anche l'HD, questo qua, che era in omaggio con l'eyeliner. Allora, questo qua non mi dispiace, però lo scovolino è troppo sottile e non mi dà un effetto grandioso. Quindi lo uso, ma non ne vado matta. Mi trovo bene anche con questi qua della Cien, questi dell'edizione limitata di qualche tempo fa. Questo lo scovolino è così, bello cicciotto. Guarda che bello scovolino. Mi piace un sacco questo scovolino. Tra l'altro non trattiene troppo prodotto e riesco a fare un bel... delle belle ciglia separate e volumizzate. Questo mi trovo bene. Il cosiddetto tutto decantatissimo Pupa Vamp, io l'ho provato, ma di Vamp, per quanto mi riguarda, non ha nulla. Nel senso che sì, si distribuisce bene e tutto il resto. Però lo scovolino è simile a quello del Paradise X-Static. Scusate. Lo scovolino è simile a quello del Paradise X-Static. Però per quanto mi riguarda, tutto questo effetto wow non c'è. È un mascara discreto, ma non è effetto wow. Assolutamente. Questo è sempre della linea Cien. Con questo non mi sono trovata. Niente di particolarmente glatante. Scusate sempre i cani. Allora, io ho concluso. Questi sono i miei prodotti per gli occhi che utilizzo sempre. Quindi correttori, promossi e bocciati. Anzi, quelli bocciati volendo li potrei anche buttare. Perché li ho conservati così, tanto per emergenza, se dovesse finirmene uno. Però fondamentalmente non sono granché. Un discorso a parte, lo riservo alle mie due BB cream preferite. Quella estiva, questa qua della Herbolario, e quella invernale della Sobioetic. Questa della Sobioetic io la uso solo in inverno, perché in estate è troppo pesante. Questa qui è la versione estiva dell'Herbolario. È quella all'acido ialuronico. Io con questa mi sono trovata bene per tutta l'estate. Tra l'altro è tantissimo, perché è 50 ml al confronto di 30 ml. Infatti di questa mi è rimasta ancora. Io spero che da qua all'estate prossima si conservi, perché l'ho comprata a luglio. Quindi io spero che fino a luglio, perché ha una scadenza del 2020. Però ha un po' di 12 mesi. Quindi io spero che si conservi. Io la tengo al fresco, evito di metterla in posti caldi. Però non so, la cosa importante è che abbia un odore. Nel frattempo ho in mano un ombretto della Kiko, che non c'entra assolutamente niente. È quello grigio. Io spero che si conservi. Se non dovesse conservarsi, anima. Io in inverno questa non la uso, perché tendo a riempirmi di macchie. Perché il freddo mi fa venire delle macchie. Come vedete ho delle macchie, non so se riuscite. Ho delle macchie, vedete? È il freddo. Soprattutto quando nevica e scendiamo sotto zero, tendo proprio a macchiarmi. Mi vengono delle macchie rosse attorno al naso, qua sotto. Con dei puntini rossi. È la pelle che soffre per il freddo. Di conseguenza, sì, io l'ha idrato e tutto. Però le macchie, purtroppo, non ci posso fare niente. Di conseguenza, quella lì non copre abbastanza. Non è abbastanza coprente. Mentre la Sobio mi fa una pelle di porcellana. Infatti le mie amiche tutte rimangono sconvolte. Perché mi dicono, ma dove l'hai presa questa BB Cream? Io l'adoro, la consiglio sempre a chiunque. Perché la BB Cream della Sobio Etic come performance è la migliore in assoluto. Io ne ho provate, come vi ho detto, diverse. Ma buone come questa, nessuna. Peraltro, essendo che io per quanto riguarda il fondo, i blush, tutto quello che va sul viso, io tendo sempre ad evitare prodotti comedogeni. Perché comunque i prodotti comedogeni tendono a fare spuntare imperfezioni o ad aumentare le imperfezioni. Quindi io preferisco sempre prodotti non comedogeni. Quindi per le basi, per le ciprie, per i blush. Quindi per tutte quelle cose che vanno sul viso, tendo ad evitare. Quindi tendo a prendere, a scegliere prodotti bio o con boninci. Peraltro, ho cercato, siccome ci siamo fatti i regali di Natale a distanza, io e mio marito, nel che senso a distanza? Nel senso che, siccome i negozi saranno un delirio in questi giorni, noi abbiamo deciso di comprare i nostri regali di Natale online. L'unica cosa che andrò fisicamente a fare io è andrò da Primark per prendere qualche pensierino alle mie amiche e al bambino della mia amica. E poi andrò da Tigotà a prendere il pensierino a mia sorella. Perché centri commerciali, cerco di frequentarli il meno possibile durante le feste di Natale. Perché l'anno scorso già mi è bastato ed era un casino. Quindi, cosa ho fatto io quest'anno? Quindi ho comprato online. E mio marito mi diceva, scegliti quello che vuoi, così lo prendi direttamente. Io volevo prendere da Sephora la palette, quella della Too Faced, che ha l'agenda, che univa le due cose che io amo di più in assoluto. Le agende, quindi l'articolo di cartoleria è true, è make-up. Ma spendere 60 euro per avere un prodotto solo... E tra l'altro ho notato che la palette conteneva anche dei colori che io non utilizzerei. Quindi ho detto, perché? Spendere 60 euro per avere un solo prodotto? No. Allora, cosa ho fatto? Ho deciso di fare il mio primo ordine. Ero indecisa tra Machillalia, che è un sito spagnolo, o Pink Panda, che viene reclamizzata in Italia su Facebook, ovunque, da un sacco di tempo. Ero indecisa, alla fine ho scelto Pink Panda, perché prezzi migliori e in più mi hanno fatto un regalo. Quest'estate c'era la Mystery Box. Perché però non ho fatto l'ordine quest'estate? Perché in questa Mystery Box io ho visto che c'erano quasi tutti i prodotti che io non utilizzo. O meglio, prodotti che utilizzo, ma che utilizzo di marche particolari. Perché in questa Beauty Box c'erano smalti, e io non li uso perché faccio la ricostruzione unghie. Terre, blush, e io non li uso perché uso prodotti bio per il viso. Rossetti, e io non li uso perché non uso rossetti, uso tinte labbra. Di conseguenza ho detto, ok, avrei un pacchetto di roba inutile che non uso, preferisco ordinare, non ordinarlo adesso, per avere questa Beauty Box il regalo. In realtà, il regalo che hanno fatto invece per queste feste natalizie, mi interessava molto di più perché regalavano una tinta labbra scelta. Quindi. Però non vi anticipo niente, mi arriverà il pacchetto, farò un unboxing insieme a voi. Ho ordinato un botto di roba, tantissima roba, con meno del prezzo che avrei speso con la palette. Quindi meglio di così. Invece a mio marito ho regalato, siccome lui mi ha visto con questa nuova box, ha ripreso ad avere voglia di svapare, però lui svapo a zero, ovviamente senza nicotina, perché non ha mai fumato, io ho regalato la sigaretta elettronica, una sigaretta elettronica, un piccolo kit starter, diciamo, con una sigaretta, con una batteria molto sottile, molto comoda, e dovrebbe arrivare domani o dopodomani, spero. Quindi, quando arriveranno, io vi farò l'unboxing. Scusate. Divo. Scusate. Sono molto, molto agit... Scusate. Scusate. Non voglio interrompere... Ragazzi! Caramelle! Scusatemi sempre. Sentono parlare persone qua fuori. Non ci posso fare niente, lo sapete. A quest'ora loro cominciano ad abbaiare. Scusate. Scusate, ragazzi, veramente. Mi dispiace tantissimo. Io devo stoppare per urlare e farli stare zitti, ma d'altronde l'orario è quello che è. Io giro sempre più o meno a quest'ora. Sono masochista e soprattutto vi odio, perché vi stono con le orecchie e con l'abbaio dei cani. Per cui, dicevo, un altro discorso che volevo fare, ed è l'ultimo punto di questo video, anche perché siamo già a 25 minuti, mi dispiace, i miei video sono immensi, è quello della sperimentazione sugli animali. Allora, faccio un discorso generico. Io dico sempre che sono scelte, indubbiamente, come essere vegetariani o vegani. Però il discorso del cibo io lo trovo un pelo diverso rispetto alla cosmesi o alla farmaceutica. Il cibo serve per vivere. Quindi, una persona che, per esempio, soffre di patologie particolari, per cui non si può nutrire di frutta e verdura a volontà, per esempio, ci sono persone che conosco che soffrono di patologie del colon retto e dello stomaco, per cui non possono assumere troppe fibre. Di conseguenza, sono costrette ad assumere, ovviamente, proteine animali. Io soffro di pressione bassa e sono portatrice sana di talassemia. Quindi, io ho il ferro sotto i piedi. Se io non potessi mangiare le proteine animali, che vi giuro, per me fanno schifo, nel senso che io ho la carne, prima mi piaceva tanto, adesso non più, ne ho il disgusto. Però sono costretta perché le proteine nobili sono necessarie al sangue per ossigenarsi e alle cellule cerebrali per integrarsi. Mi sfugge la parola in questo momento. La rigenerarsi, ecco. Perché le proteine nobili sono utili al cervello per la rigenerazione delle cellule cerebrali. Le proteine animali, soprattutto, sono molto importanti per i bambini. Perché aiutano lo sviluppo del cervello. Quindi tutti quei genitori vegani e vegetariani che costringono i propri figli a nutrirsi di vegetali e non animali fanno una cosa criminale. Perché tu sei adulto, maggiorenne e vaccinato. Puoi decidere della tua vita e decidere di non dare proteine. Scusate. È il video più lungo della storia. Non hanno mai abbaiato così tanto. Dicevo, le persone che sono maggiorenne e vaccinate possono decidere di non assumere proteine animali. Ma nel momento in cui un bambino è piccolo, ne ha bisogno. Perché? Sempre senza esagerare. Partiamo da questo presupposto. Sempre senza esagerare. Perché anche le proteine animali danno dei problemi. Perché gli animali purtroppo sono sottoposti all'assunzione di antibiotici. Per cui creano una serie di problemi. Però sono necessarie in una dieta di un bambino. È meglio scegliere il pesce. Piccoli pesci, non grandi pesci. Perché lì c'è un problema di mercurio. Però dico, è meglio scegliere il pesce carne bianca piuttosto che carne rossa. Però la carne e le proteine animali sono importanti. Anche perché il corpo senza proteine animali non produce la serotonina. Che è importante per l'umore, è importante per tante cose. Ok. Di conseguenza quelle sono scelte. Sono scelte da una persona adulta. Ma un bambino non va sottoposto contro la sua volontà. Visto che quando è piccolo non può scegliere. Per quanto riguarda invece la sperimentazione per gli animali, per quanto riguarda cosmetici e farmaceutico, là siamo un pelo oltre. Perché? Perché io trovo che siano delle sofferenze inutili. Sofferenze in mani e immotivate. Perché? Il professor Veronesi, Dio la bian gloria, diceva sempre che la fisiologia umana e animale è troppo diversa e che la sperimentazione sugli animali è inutile. È un mercato di morte, alimentato da quelle aziende farmaceutiche che speculano dietro al mercato della sperimentazione animale. È inutile perché la fisiologia animale è troppo diversa, quindi le cose che fanno effetto sugli animali non fanno effetto su di noi. O qualcosa che dà un problema a un animale non può darlo su di noi, o viceversa. Quindi io trovo chi si schiera a favore della sperimentazione animale una bestia. E qui bestia non è un complimento. Perché? Perché tu sottoponi degli animali a una sofferenza inaudita per qualcosa di inutile, perché bastano i test in vitro. E il professor Veronesi, che voglio dire era un luminare in materia, lo ha provato più e più volte. Lui, personalmente, nella sua ricerca contro il cancro, non ha mai utilizzato cavie vive. Ha sempre fatto solo test in vitro. Ora, perché vi chiamo bestie? Perché per me siete delle bestie. Perché non potete dire, vabbè, è una scelta. Come i vegetariani e i vegani non è la stessa cosa. Perché il cibo è necessario a vivere, la sperimentazione animale no. Quindi, per me, siete solo delle bestie. Chi chiude gli occhi e continua a utilizzare prodotti che utilizzano gli animali in sperimentazione e pagano all'estero perché in Europa non è più permesso, pagano in Cina, in Bangladesh, in tutti questi paesi retrogradi del terzo mondo, perché per me sono paesi del terzo mondo, pagano all'estero per continuare la sperimentazione animale. Per me siete bestie e non meritate di consumare il mio stesso ossigeno. Ve lo dico fuori dei denti. Qui probabilmente mi attirerò delle antipatie, non me ne fotte un cazzo. Scusando, la frase. Bene. Io ho questo video abbastanza lungo, 30 minuti tra le varie interruzioni, perdonatemi veramente, ma purtroppo quando loro sono agitati sentono parlare, sbattere porte, perché io ho dei vicini che proprio non sono il massimo della civiltà. Sentono sbattere porte, gridare, gente che litiga e quindi si agitano. Nella ridente Lombardia io sono circondata a buzzurri, come dico io, perché non posso apostrofarli altrimenti. Oggi si nota che odio gli esseri umani, vero? Sì, oggi sì. Oggi gli esseri umani mi stanno sul cazzo. Anche perché ho avuto scontro, tra virgolette, perché io non mi ci confronto nemmeno con questa gente, non mi ci confronto nemmeno. Perché? Perché non ne vale la pena, perché sprecherei soltanto aria per parlare con dei buchi, anzi, con dei deretani, perché io li chiamo così, per non dire altro. una ragazza che magnificava dei prodotti che vengono purtroppo sperimentati, nonostante il divieto, nonostante tutto, e io ho detto, però peccato che sperimentino sugli animali. E vabbè, ma quelle sono scelte. Se ti serve per tacitarti la coscienza, sono scelte. Vabbè, saranno anche scelte, ma sono per me scelte inconcepibili. Voi sentite in questo momento Blitz, che Blitz non abbaia mai, ma è molto molto agitato, perché è da due giorni che scende solo per fare i bisogni, perché nevica. Quindi praticamente è molto molto agitato, di solito esce e sta fuori più tempo. Bene, io evitando di fregarvi timpani nuovamente, vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video. Ciao!